Due punti contaminati dopo i controlli ripetuti sulle acque del fiume Aterno. A farlo sapere il Consorzio di Bonifica Interno, Aterno Sagittario, con sede a Pratola Peligna. Il Consorzio, in collaborazione dell'Istituto Zoprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, scrive il commissario Sergio Iovenitti, ha ripetuto gli esami per il monitoraggio delle acque irrigue del comprensorio consortile in agro della Valle dell'Aquilano e con l'occasione eseguito il primo controllo delle acque irrigue nella Valle Peligna. Gli accertamenti ripetuti nella Valle Aterno, in data 15 giugno 2020, prosegue il commissario, nei medesimi sei punti in cui era stata evidenziata la Salmonella, hanno dato esito favorevole in quattro punti di rilievo, ma in due punti è stata rimarcata ancora la presenza di Salmonella. In località Ponte Vallone, nel comune di Fossa, nel fiumetto di Fossa, l'ultima derivazione a scopo irrigo nel comune di Villa Sant'Angelo. Nella stessa giornata del 15 giugno, aggiunge il commissario, nella Valle Peligna si è provveduto a campionare in sei punti. Gli esiti del campionamento nella Valle Peligna hanno dato risultato favorevole su tutti i punti. Il piano per il monitoraggio delle acque irrigue è stato ripetuto nella giornata di oggi, nei punti che sono risultati positivi nella Valle Aterno, al prelievo del 15 giugno, a cui il Consorzio è ritenuto opportuno inserire ulteriori dieci prelievi, quattro nella Valle dell'Aterno, sei nella Valle Peligna. Si precisa che laddove nel secondo o terzo campionamento l'esito risultasse negativo rispetto ai precedenti, non avrà effettuato un nuovo campionamento, diversamente saranno nuovamente ripetuti. Il Consorzio avrà venuto a informare i sindaci dei comuni interessati, il Dipartimento di Prevenzione della ASL1, l'Art Abruzzo, il Prefetto dell'Aquila, i servizi della Regione Abruzzo con competenza sulla qualità delle acque, sicurezza ambientale, associazioni agricole più rappresentative. Un lavoro quello della campionatura delle acque, che aveva avviato la precedente gestione con il consigliere delegato Carlo Di Ruscio.